Quando vediamo qualcuno che prende per i fondelli uno che è in difficoltà, e magari gli diamo sull'orecchio, ma loro però, ma immaginate, è una cosa bellissima. Allora, questo è l'altro discorso della sensibilità culturale. Se noi siamo qui per una sensibilità culturale, che significa non cultura e nemmeno sensibilità? Perché sensibili possiamo essere a qualsiasi cosa, no? Io posso essere sensibile alla musica, all'amore, questo è il contesto necessario. Ma sensibilità culturale significa qualcosa di diverso. Io quello ho cercato di dire anche nelle mie lezioni universitarie. Bisogna fare attenzione alle persone che sono in difficoltà, perché come dico, nel film, in quel film c'è un passaggio, l'avete ascoltato? Una persona con handicap merita rispetto, ma merita più rispetto degli altri. Questo è un principio sacrosanto. E quindi mi rivolgo a voi. Capito? Non c'è stato un esempio di essere qui, non ho bisogno di comprare il mondo. Grazie